mostra le parti intime ad un gruppo di ragazzi in piazza protagonista di un video postato in rete il clochard già al centro di aggressioni e molestia in centro lecco scattano le indagini dopo anni di carenza di personale fondi ridotti la provincia di lecco cerca nuovo slancio lente annuncia sei assunzioni e più investimenti per scuole e strade il questore di lecco chiude per sette giorni una discoteca di osnago dove nel fine settimana erano stati accoltellati due addetti alla sicurezza aveva cercato di sedare una rissa sull'onda del ristorante didattico lecco il cfpa di casargo apre un hotel per gli studenti la possibilità di mettersi alla prova con una nuova esperienza lavorativa buonasera ben trovati con l'informazione di unica tv edizione di lecco fa discutere il video postato sulla pagina facebook dal consigliere comunale giacomo zamperini che immortala un clochard mentre mostra le parti intime ad un gruppo di ragazzi in piazza 20 settembre a lecco protagonista il senza tetto straniero già al centro di episodi di aggressioni e molestie nelle ultime settimane atti osceni luogo pubblico danneggiamento dei beni comuni degrado sporcizia violenza verbale psicologica urla schiamazzi a tutte le ore del giorno e della notte sono state presentate numerose denunce da residenti e commercianti possibile che nessuno sia ancora intervenuto questo quanto scrive zamperini sui social annunciando un flash mob di protesta in programma domani alle 16 in piazza sul caso sono in corso indagini da parte della polizia locale nei confronti dell'uomo potrebbe scattare la denuncia difficilmente l'arresto previsto solo in flagranza di reato e cambiamo argomento dopo anni di carenza di personale fondi ridotti la provincia di lecco cerca nuovo slancio lente annuncia l'arrivo di sei assunzioni e più investimenti nella manutenzione di scuole e strade un milione in più che permetterà di aumentare il budget dedicato alla manutenzione delle strade e delle scuole superiori ma anche sei nuove assunzioni per ridare slancio all'attività della provincia di lecco che da tempo deve far fronte a una cronica carenza di personale consiglio provinciale approvata all'unanimità il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021 e le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 l'avanzo contabile al 31 dicembre è di quasi 16 milioni lenti ha generato cassa anno dopo anno tra i cili quali però vincolati proprio da questi si è riusciti a ricavare nuove risorse ci siamo resi conto che c'erano fondi vincolati nel corso degli anni che oggi dopo un'attenta analisi condotta dai uffici su input della nuova amministrazione guidata dalla presidente Hoffman sono venuti meno spiega il consigliere provinciale delegato al bilancio davide ielardi questo lavoro prezioso ha consentito di trovare ulteriori risorse pari a 961 mila euro tra le misure previste nella variazione di bilancio l'assunzione di nuovo personale tra cui una figura dirigenziale tecnica e altri cinque dipendenti per dare alla provincia dignità e forza per svolgere in modo adeguato le proprie competenze a supporto dei comuni spiega ielardi inoltre abbiamo costituito due fondi per la manutenzione delle strade delle scuole con cifre più consistenti rispetto agli ultimi anni sulla manutenzione straordinaria 540 mila euro per gli edifici scolastici più 187 mila rispetto al 2019 e 700 mila euro per le strade più 200 mila mentre sulla manutenzione ordinaria 431 mila per le scuole più 165 mila euro sempre rispetto al 2019 e 858 mila euro per le strade più 354 mila euro con l'impegno conclude il consigliere delegato di continuare questo lavoro di analisi che ci permetterà nella prossima variazione di bilancio di destinare ulteriori risorse all'edilizia scolastica ringrazio il consigliere ielardi per il grande lavoro di squadra svolto insieme agli altri consiglieri delegati che ha consentito di trovare risorse straordinarie per risolvere alcune criticità strutturali che da tempo gli amministratori del territorio segnalavano sottolinea la presidente alessandra hofman personalmente ho apprezzato il fatto che questa variazione e il rendiconto siano stati votati in maniera unanime da tutto il consiglio provinciale ora imposteremo il lavoro dei prossimi mesi per cercare di dare piena attuazione alle tante progettualità che sono da tempo nel cassetto licenza sospesa per sette giorni per una discoteca di osnago in seguito all'accoltellamento di due addetti alla sicurezza due fratelli nigeriani a ordinare la serrata al questore di lecco alfredo d'agostino dopo che nella notte tra sabato e domenica i due buttafuori gemelli di 29 anni erano intervenuti per cercare di sedare una rissa tra giovanissimi scoppiata nel parcheggio del locale colpiti con fendenti agli arti inferiori se l'erano cavata fortunatamente con ferite lievi poiché il locale era stato oggetto anche nel recente passato di un altro episodio violento segnalato dai carabinieri il questore ha ritenuto necessaria l'adozione del provvedimento per un periodo di sette giorni che è stato notificato nel pomeriggio di ieri al titolare dagli agenti della polizia di stato di lecco e dai carabinieri della compagnia di merate spiega la questura in una nota i vertici dal distretto di lecco e degli ambiti di zona firmano un documento comune sulla riforma della sanità regionale non deve essere l'occasione di una competizione sui servizi fra i territori della provincia di lecco dichiarano mal punto di partenza per una crescita complessiva vediamo meglio non fare a gala sui servizi sociosanitari all'indomani dell'inaugurazione a olgiate molgora della prima casa di comunità i presidenti dei tre ambiti territoriali di lecco bellane di merate e il presidente vicepresidente del distretto di lecco ripropongono un documento unitario sulla gestione dei servizi nel territorio abbiamo avuto modo di ribadire si legge nel documento firmato da guido costoni maurizio maggioni gabriella del nero sabina panzeri e filippo galbiati come la vera riforma sociosanitaria consista anzitutto nella ripresa dopo anni difficili in cui si è creata una distanza di un dialogo stretto e continuativo fra enti che si occupano di sanità e i comuni che si occupano di sociale con le loro articolazioni territoriali un dialogo che riconosca a pari dignità i soggetti istituzionali interessati nel rispetto delle reciproche competenze l'integrazione sociosanitaria deve passare dunque anche per il coinvolgimento degli enti gestori dell'associazionismo e del volontariato e interesse dei sindaci dei comuni proseguono gli amministratori che una organizzazione di rete di stretta integrazione gli ospedali siano essi ABO ovvero con più specialità oppure SPOC ovvero con meno specialità assumano entrambi un ruolo centrale nei nuovi distretti con un'identità precisa e un rafforzamento delle specialità che ogni ospedale può offrire avvantaggio di tutto il sistema sanitario provinciale. Va superata ogni logica di concorrenza territoriale e accentramento che porta non solo nelle chiese a un depauperamento progressivo e una minore attrattività dei centri SPOC che invece hanno dimostrato concludono i sindaci anche nel corso della pandemia di poter dover svolgere un ruolo altamente strategico. La cronaca è finita a processo per truffa aggravata avrebbe indebitamente segnato 19 euro di straordinari protagonista un ex poliziotto in servizio presso la questura di Lecco. La vicenda risale al 2019 quando l'ex procuratore capo Antonio Chiappani a seguito di un esposto ne aveva chiesto l'archiviazione per la tenue entità del fatto. L'imputato dopo 40 anni di carriera senza mai un provvedimento disciplinare si era opposto da cui il rinvio a giudizio. Ieri in tribunale a Lecco si è aperto il processo subito aggiornato al prossimo 5 ottobre quando saranno ascoltati i testimoni. La Poncia si prepara ad ospitare il Nameless e i campi d'Apolo della splendida zona verde faranno da scenario al grande festival musicale in programma a inizio giugno. È un'area dalle enormi potenzialità spiega la proprietà. Manca un mese al Nameless, il grande festival che torna ad animare il panorama musicale italiano dopo lo stop imposto dalla pandemia. Entrano nel vivo i preparativi alla Poncia sul lago di Annone, nuova location scelta per ospitare l'evento. Sale l'attesa tra gli amanti della musica elettronica. Arriveranno 20.000 ragazzi ma anche i proprietari dei terreni non vedono l'ora di mettere alla prova le potenzialità dell'area. 200.000 metri quadri immersi nella natura. Perché avete deciso di rendere disponibile quest'area per questo grande evento? Perché ci è sembrato un'esperienza da provare e unica. Questo posto che è la nuova Poncia ha delle potenzialità immense è un posto magico dal mio punto di vista perché sei immerso completamente nella natura. È nascosto, nessuno lo conosce e credo che unire questa sinergia di natura, di energia positiva con la musica e con i giovani oggi come oggi sia il massimo. Il palco principale alle sue spalle in allestimento, questo è un campo da polo in realtà? Sì, è il nostro campo uno, proprio è il campo fatto, costruito appositamente a schiena d'asino per avere sempre un'ottima fruibilità e linealità della palla, della palla da polo. Noi siamo qui dal 1990, dal 1990 abbiamo fatto diversi tipi di lavori sui campi per renderli fruibili, ha diversi tipi di specialità soprattutto per il polo. Nella nostra proprietà sono passati i migliori giocatori al mondo di questo sport particolare che è una simbiosi tra cavaliere e cavallo. Ovviamente avete avuto tutte le rassicurazioni che quest'area non subirà danni di nessun tipo. Sicuramente stiamo lavorando in sinergia perché questo accada, per cui siamo qui veramente 12 ore al giorno per aiutare assolutamente che la manifestazione sia come sicuramente sarà il massimo della bellezza e per aiutare l'organizzazione. E poi quale futuro si immagina per questa bellissima area? Vediamo, vediamo. Intanto è un'area sportiva e sicuramente è un'area di spettacoli. Questo sarà una prova per far capire alle persone intorno, alle maestranze, che è un posto che veramente vale. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Varese, in prognosi riservata al ciclista di 59 anni, investito ieri a Robbiate mentre stava attraversando la strada portando a mano la bicicletta. Travolto da una motocicletta ha riportato un grave trauma cranico. Il ragazzo di 18 anni in sella alla moto, caduto violentemente a terra, è stato invece trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni che in un primo momento sembravano critiche sono migliorate e nelle ultime ore fortunatamente non è più in pericolo di vita. Esposti al Museo Manzoniano gli abiti di Don Rodrigo, Gertrude e la conversa alla principessa madre. Sono i costumi di scena indossati dagli attori dello sceneggiato sui promessi sposi del 1989 che si aggiungono a quelli già presenti di Renzo e Lucia. Gli abiti di Don Rodrigo, Gertrude, la conversa e la principessa madre esposti a Villa Manzoni. Sono i costumi di scena indossati dagli attori che nel 1989 interpretarono i personaggi dei Promessi Sposi nella miniserie diretta da Salvatore Nocita. Un cast di primordine per uno sceneggiato di successo prodotto dalla RAI. Molti di voi ricorderanno Alberto Sordi nei panni di Don Abbondio o Dario Fo in quelli della Zecca Garbugli. Ad aggiungere un tocco prezioso alle interpretazioni degli attori i costumi realizzati dalla Sartoria Tirelli che dal 1964 firma gli abiti per film e spettacoli famosi da quelli di Lucchino Visconti a quelli di Fellini fino al cinema hollywoodiano. In occasione delle attività didattiche che si stanno svolgendo in questo periodo al Museo Manzoniano ai visitatori viene offerta la possibilità di ammirare questi quattro nuovi arrivi firmati dallo stilista Maurizio Monteverde che si aggiungono agli abiti di Renzo e Lucia già presenti nella sala 10. Tra i primi ad avere la possibilità di incontrare i personaggi del romanzo attraverso il nuovo allestimento gli alunni delle scuole primarie di Lecco che grazie al laboratorio didattico immagina scopri esplora i passaporti dei Promessi Sposi hanno la possibilità di conoscere il capolavoro manzoniano nel luogo cittadino più rappresentativo. Dal 29 aprile fino a giugno infatti gli alunni sotto la guida di Manuela Sormani possono realizzare la descrizione di uno dei dodici personaggi del romanzo di Alessandro Manzoni utilizzando il format creato da Paolo Vallara per la mostra i passaporti dei Promessi Sposi ora nelle scuderie della villa. Per partecipare ai laboratori basta contattare simul scrivendo a educazione.museichiocciolacomune.lecco.it Proseguono le iniziative nell'ambito della rassegna Lecco ama la montagna promossa dal comune di Lecco. Venerdì 6 maggio alle 20.45 in Sala Ticozzi lo spettacolo teatrale Eroi di Montagna di Andrea Carabelli per Monti Sorgenti. Sabato 7 in programma un'uscita per chi vuole avvicinarsi al mondo dell'arrampicata. Il ritrovo con il gruppo dei Ragni alle 8.30 presso Sportab in via Rivolta. Sempre sabato l'appuntamento con le ferrate di Lecco gamma 1 con partenza alle 9.45 dal piazzale della Funivia da cui parte anche la camminata per Campo Deboi per un'esperienza di mindfulness. Domenica 8 maggio giro cicloturistico tra Lago e Negugio con partenza alle 9 dall'Infopoint mentre dal piazzale della Funivia parte l'escursione sulla via ferrata gamma 2 per il monte Resegone. Per chi preferisce trekking più rilassanti appuntamento alle 9.15 di fronte alla chiesa di Laorca alla scoperta della valle del Gerenzone per informazioni www.leccoamalamontagna.it Sull'onda del ristorante didattico a Lecco il centro di formazione professionale alberghiero aprirà un hotel didattico a Casargo. Per gli studenti la possibilità di mettersi alla prova con una nuova esperienza lavorativa l'anno prossimo i lavori di ampliamento alla scuola. Concluso il contesto internazionale di cucina e sala che ha portato in Valsassina studenti da tutta Europa il centro di formazione professionale alberghiero di Casargo guarda avanti e prendendo spunto dalla positiva esperienza del ristorante didattico a Lecco punta ad ampliarsi. L'ultimo progetto che abbiamo messo alla prova è stato proprio il ristorante didattico che è un ristorante a Lecco ex Porticciolo dove noi stiamo puntando tanto in quanto proprio la parola alternanza lavoro qua a scuola fanno tanta pratica, studiano e al ristorante invece col pubblico quotidiano imparano a creare un piatto imparano i sapori del territorio, i prodotti del territorio e hanno a che fare direttamente proprio con le persone come un ristorante vero. Gli altri progetti più importanti che stiamo portando avanti è proprio quello dell'hotel didattico penso che partiremo l'anno prossimo con i lavori quindi riusciremo a spostare dove c'è l'aria femminile faremo un piano più alto e faremo otto camere di altissimo livello super lusso tutto in vetro dove potremo ospitare anche qua ospiti e i ragazzi potranno fare come ristorante didattico l'hotel didattico. Tanti ragazzi che ogni anno scelgono di intraprendere il percorso per diventare chef, pasticceri o detti di sala. Il team di casa si è classificato al secondo posto nel recente contest la possibilità di confrontarsi con i ragazzi di altri sette paesi europei ma soprattutto anche in questo caso di gettare le basi per progetti futuri. Siamo davvero soddisfatti perché in questa edizione sono venuti ad accompagnare i ragazzi anche diversi direttori proprio nell'intento di costruire dei nuovi progetti europei insieme sia per lo scambio delle classi che per fare attività insieme e nuovi concorsi. I nostri numeri stanno tenendo degli studenti c'è stata una buona ripartenza anche dopo il difficile periodo pandemico e speriamo che in futuro ci sia un'ulteriore crescita di questa struttura che per passione dei propri docenti e delle famiglie che scrivono i ragazzi lo merita. Gli splendidi giardini e le fioriture di Villa Carlotta sulla sponda comasca del lago saranno i protagonisti della puntata di Itinerari in onda stasera alle 20.20 alle 21.40. Vediamo una breve anticipazione. Benvenuti ad una nuova puntata di Itinerari e quest'oggi vi portiamo in gita sulla sponda comasca del lago di Como. Percorreremo infatti la Greenway un percorso molto panoramico e adatto a tutta la famiglia che si snoda in uno dei punti più turistici dell'Ario. E siamo arrivati ora ai bellissimi giardini di Villa Carlotta e qui incontriamo Rita. Ciao Rita! Ciao Renato, benvenuti! Benvenuti a Villa Carlotta è uno dei giardini botanici più importanti del lago di Como e questo è veramente un gioiello del lago di Como. Questo è uno dei parchi botanici più importanti del lago di Como e vale veramente la pena di venire a visitarlo soprattutto adesso con le azalee, i rododendri e le camelie in fiore. A dire la verità è sempre bello in qualsiasi stagione. e questo grazie a questo gruppo di giardinieri che amano il loro lavoro e che dipingono questo giardino con professionalità. Non perdetevi dunque questa bella gita primaverile con Alessandro Edonato. Il nostro telegiornale termina qui. Vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri canali social sul sito teleunica.com e su teleunica.tv dove trovate tutti i nostri programmi. Vi auguro una buona serata.